Un grande applauso per favore. Ok, qua avremo davvero bisogno della vostra collaborazione per battere le mani. Anche tu al bar vi vedo, sì, ecco. Ciao, ciao. Un grande applauso per favore. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Don't believe in this world 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 E, 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 e! Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie Grazie, grazie mille De Nibio Grazie Grazie Alessandra, Saretta, Elena Grazie mille